ciao a tutti folettini e folettine benvenuti in questo nuovissimo video oggi video spesa abbiamo fatto un po di spesa e adesso ve la faccio vedere allora allora eccoci qui io ho qui gli scontri se ci capisco qualcosa perché tutto mischiato allora vediamo perché siamo andati in due supermercati quindi allora ma questo è del desparra allora pane integrale è ottimo poi spec salame cotto e sala ungherese che sono questi qui questi tre vedete 1 2 e 3 e sono tutti e 32 di ciascuno poi abbiamo l'insalata a 99 centesimi due buste questa qui bonduelle ottima per fare le insalate e questa è la spesa del desparra adesso abbiamo la spesa del pricks supermercati pricks abbiamo questa carne macinata due di questi biscotti due pacchi di questi qui vedete vedete adesso non riesco a vedere tutti i prezzi dagli scontrini perché è uno scontrino lungo comunque abbiamo preso questi qui biscotti due pacchi poi quattro buste di mozzarella questa qui qui patate precotte patate precotte questi qui due pacchi carote precotte vedete questi qui poi poi tre buste di pan pratolat scusate non so bene come si dica e tre buste di besciamella questa qui stelle alpiste le alpine si ottima poi questa busta di patate surgelate questa busta di patate al forno della tibetà poi questa qui qui è scritto il prezzo 1 euro 89 la valdostana buonissima poi queste qui è scritto 99 è già scritto il prezzo e sono cotolette con spinaci poi queste polpettine sempre 1 euro e 98 questi hamburger 4 hamburger a 2 euro e 50 di pollo e tacchino queste due pizze pizza ai funghi e pizza quattro formaggi vedete mio marito va matto per la quattro formaggi quindi ha preso questa poi abbiamo preso questo qui per mio marito che mette questo nel latte lui la mattina due di questa qui jambonette montana buonissima due di queste buste di formaggio grattugiato per la pasta e uno di zucchero vedete poi qui c'è del tonno quattro di tonno quattro scatolette di tonno qui c'è anche la pasta vedete c'è questo bel pacco da un chilo di rigatoni questo pacco di spaghetto poi mio marito ha voluto prendere questa cioccolata buonissima che ci sono quattro di queste barrette diciamo di cioccolata a 99 centesimi le sue due le ha già prese con sé quindi per quello la vedete aperta beh che dire se questo video vi è piaciuto mettete un mi piace scrivetevi al mio canale condividete i miei video su tutti i vostri social con tutti i vostri amici e amiche iscrivetevi alla mia pagina facebook follettina creation se per chi volesse mandarmi un pacchetto lascio la mia email giù nell'info box contattatemi tramite email e noi ci vediamo alla prossima un bacio ciao